Allora al momento le liste presentate sono 18, quindi entro il termine prefissato delle ore 12 sono pervenute 18 liste collegate a 5 candidati sindaci al momento. 5 candidati sindaco e 18 liste presentate hanno c'era a superiore, alcuni documenti sono stati consegnati fino alle 12. Questi i nomi dei 5 candidati a sindaco, Roberto Ciancio, Andrea Moretti, Bartolo Pagano, Roberto Viziola e Giovanni Maria Cuofano. Fortunatamente fino a questo momento facendo i debiti scongiuri è andato tutto benissimo, quindi non abbiamo avuto problemi, ci siamo organizzati in tempo, abbiamo accolto con un ufficio prenotazioni le liste che sono man mano pervenute e quindi non c'è stato bisogno nemmeno dell'intervento della forza pubblica, insomma è andato tutto bene. Liste che però arrivano anche sempre fino all'ultimo minuto? Fino all'ultimissimo minuto, l'ultima pervenuta alle ore 12 in punto.